Ciao a tutti, oggi ci troviamo in Tonale e stiamo per salire al Passo Presena. Abbiamo lasciato la macchina al parcheggio dove c'è la Gabino via Paradiso che si trova alle nostre spalle. Adesso partiamo, via! Alla prossima! andiamo di usci e poi andiamo via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti